La Vertus di Milano è alla ricerca di investitori che vogliono reindustrializzare la Treofan di Battipaglia. Svolgeranno per conto dell'ILVA questo importante compito. Gli esperti hanno seguito le sorti di altri importanti stabilimenti, trovando le soluzioni adeguate. Altra buona notizia è che nell'incontro svolto nella sede di Confindustria, le parti si sono accordate sulla cassa integrazione che congela i licenziamenti collettivi. Proposte iscritte nel verbale del Summit che verranno formalizzate al Ministero del Lavoro, ente che ne ha le competenze. L'incontro al MISE dovrebbe svolgersi il 27 marzo.